Buongiorno followers! Mentre ieri sera concludevo la giornata senza patemi, ma le aliene ci sorprendevano in logica, o il runner diventa un asino, oppure abbiamo bisogno del suo suicidio, stamattina 25 novembre 2015 cominciavamo con la mitica fase satanello del Papa, ossia quando il tuo nome viene pronunciato pubblicamente con tanto di insulti, solitamente sono i media, ma potrebbero addirittura essere i tuoni oppure i fuochi d'artificio, ad ogni modo stamattina toccava alle macchine pubblicitarie che passavano in zona, una volta questo si chiamava reato, oggi sul Paradiso Sa invece si chiama far perdere il coraggio, ne approfitto quindi pertanto per salutare i simpatici e coraggiosi del pianeta Terra, ci vediamo nei prossimi video messaggi!